Grazie a tutti! Grazie a tutti! Rosso ha un significato particolare, appunto è delegata alla fondatrice del movimento di Focolari, Chiara Lubic, che nel dicembre del 1966 regala ai ragazzi di Loppiano, la cittadella dove noi abitiamo, una batteria di colore rosso. Quindi eravamo la generazione nuova Gen con la batteria di colore rosso, si è fatta la sintesi Gen-Rosso. In contemporanea nasceva anche l'altro complesso che ha avuto in regalo la batteria verde, che si chiama Gen-Verde. Siamo i due complessi nati nel 23 dicembre del 1966 per opera di Chiara Lubico con il dono di queste due batterie. Così è nato in una maniera molto semplice. Una maniera molto semplice, poi una storia incredibile negli anni… Impensata anche perché noi in realtà eravamo una novità qui nel Val d'Arno e vedere giovani di tutte le parti del mondo nel 66, dove ancora è il senso dell'interculturalità, diciamo così, di questa comunione fra i popoli che abbiamo e che è sotto i nostri occhi nei nostri tempi. Allora non c'era. E allora vedere questi gruppi di tante nazioni, la gente veniva a curiosare, a vedere e per cui noi abbiamo cominciato soltanto per accogliere le persone, soltanto che poi la gente si è interessata, diciamo perché non venite nelle nostre cittadelle a cantarci queste belle canzoni, così… Dopo pochi mesi Chiara Lubic ci ha detto di incidere il primo disco, cosa che noi non ci aspettavamo, e da lì è cominciata l'avventura. Siamo andati in tanti anni, 46 anni di storia. Io ci sono fin dall'inizio, 46 anni di storia, abbiamo visitato più di 50 nazioni, tra cui appunto Sidney, dove ci siamo incontrati. Nell'occasione io avevo avuto la fortuna di ospitarvi nello studio radio in cui lavoravo e non vi ho fatto due domande incredibili, che colgo l'occasione di riproporti quest'anno. Non ti ho chiesto, ecco, tu hai conosciuto sicuramente Chiara Lubic, quindi qual è il tuo ricordo, se c'è anche qualche aneddoto particolare che ci vuoi raccontare? Ma con Chiara Lubic io ho avuto un rapporto molto, molto forte, perché fin dall'inizio, dal 67 praticamente, e quando lei fece la prima visita all'Oppiano, anno in cui già io ero lì, io presentai a lei, proprio nel gennaio del 67, due canzoni che sarebbero state fra le prime del Ger Rosso, e mi ricordo ancora il suo sguardo quando ho finito di cantare assieme al primo nucleetto del Ger Rosso, dopo aver cantato una canzone che si è intitolata Ave Mariapoli, lei alla fine con sorprese, siccome io venivo dal mondo rock, perché io prima di conoscere questo movimento, questo gruppo, avevo un gruppo musicale che si chiamava I Notturni a Palermo, e facevo molto rock, molto, e così, e avevo presso le canzoni che avevo fatto prima, cambiando le parole, però ero ancora un rockettaro, e a Chiara questo era piaciuto molto, e mi ha detto, ma la canti un'altra volta, e così, già subito per la prima volta ho avuto un bis da lei, ma poi è stato bello perché con lei ho collaborato tantissimo, tutte le canzoni che facevo anche col Ger Rosso, sempre come un dono, le mandavamo per prima a Chiara, che ci diceva la sua opinione, così, ma non era soltanto un'opinione, perché tante delle prime canzoni erano anche dedotte da meditazioni che lei aveva fatto, cioè il concetto, diciamo così, di tutte le canzoni come fondamento, avevano sempre il carisma suo, il carisma dell'unità, ecco di questa nuova proposta di Vangelo, che lei ci dava e che noi trasformavamo in canzoni, e qualche volta addirittura lei partecipava alla costruzione delle canzoni, suggeriva frasi, ci correggeva, proponeva, ma poi si lasciava correggere anche a lei, magari qualche cosa che lei proponeva non c'entrava nel verso, no? Allora dice, no, allora cambiamo, voi come fareste? E così, ed era un rapporto molto bello, molto stretto, anche con delle correzioni, anche fino a quando lei è partita, diciamo così, per il cielo, e abbiamo fatto sempre in collaborazione con lei, ancora niente meno nel gennaio del 2008, cioè quando lei è partita, poi lei è partita in marzo, noi siamo stati davanti a lei, che ci ha accolti, e abbiamo cantato un'ultima canzone per lei, e quindi immaginati, è un rapporto personalissimo, molto forte, molto bello. C'è un'altra Chiara che porta probabilmente molti giovani alla vostra famiglia, al vostro movimento, che è Chiara Luce. Sì, ho avuto modo di conoscere anche lei, e anche lì è stata una storia molto bella, perché noi stavamo facendo uno spettacolo a Torino, e qualcuno ci ha detto che c'era una genna, una ragazza, che era ricoverata all'ospedale di Torino, e che quindi non poteva venire al concerto. Il Geroso era molto abituato a fare delle pazzie, no? L'avevamo già fatto altre volte, abbiamo detto, che peccato che questa ragazza non può venire, dai, facciamole una sorpresa, lei non può venire allo spettacolo, andiamo a cantare noi per lei. Soltanto che quando siamo arrivati, con la chitarra in mano non ci hanno fatti entrare, dice, ma dove andate? E allora per fortuna abbiamo trovato una infermiera, che ci ha indicato una strada secondaria, una scala di servizio, ci ha fatto salire di lì, e così piano 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 in punta di piedi siamo entrati nella stanza di Chiara Luce e lei era sorpresissima a vedere, eravamo non so quanto, sei, sette del Geroso, che eravamo lì e abbiamo detto, Chiara, tu non puoi venire, siamo noi qui per te per cantare. Era di una gioia incredibile, si mise a sedere sul letto e continuava a guardarci così e lì abbiamo cominciato a cantare alcune canzoni e abbiamo fatto anche delle foto che tuttora circolano di Chiara Luce mentre noi cantiamo. E il rapporto con lei è rimasto molto, molto forte e si sentiva che era una ragazza straordinaria e mi ricordo che poco a tempo dopo noi dovevamo fare la prima nostra tournée nell'Est. Eravamo state invitati dal Centro Culturale Ucraino, allora ancora Unione Sovietica, a fare dei concerti, ma all'ultimo momento, quando io dovevo entrare per andare a preparare, non hanno dato il permesso di entrare. E allora eravamo dispiaciutissimi perché ormai eravamo preparati per andare lì, avevamo fatto tradurre tutte le canzoni in russo. E mi ricordo che mi è venuta l'idea, dico io telefono a Chiara, glielo dico, e telefonai a Chiara Luce e lei stava molto male. Quando mi ha sentito, dice, come non vi danno il permesso? Ho detto, no, purtroppo no, non ti preoccupare, ci penso io. E allora, non so cosa ha fatto, avrà pregato, avrà offerto, non so, il fatto sta che subito dopo abbiamo avuto il permesso. E mi ricordo che le ho telefonato per dire, guarda che entro in Russia, sto andando, entro in Unione Sovietica, no? E allora lei ha fatto un grido e ha detto, lo sapevo, lo sapevo, come dire che avevo ottenuto queste grazie. E noi abbiamo potuto fare la prima tournée dell'Unione Sovietica allora, che era poco prima che crollasse un po' tutto il regime. E stiamo stati in Ucraina, a Kiev, a Ternopol, facendo tanti concerti e lasciando una traccia enorme là, perché tanti hanno conosciuto, addirittura Gesù per la prima volta. Conoscevano, molta gente non sapeva niente del cristianessimo. E quando siamo andati via abbiamo lanciato una bella piccola comunità che già ho cominciato a vivere, il Vangelo, come noi. E questo, noi sempre l'abbiamo attribuito come merito a lei. È la storia di una grande santa, è ancora beata, ma è una storia di santità bellissima, Bella, bella. E lei, mi ricordo, adesso io ti ho raccontato come è andata a finire dopo, ma fra il prima e il dopo lei è partita per il cielo. Prima che ancora noi potessimo andare, ma già ormai avevamo tutti i permessi, quindi si andava. E quando lei è partita abbiamo composto per lei una canzone che è stata la prima canzone fatta per lei, Dio mi ama, ma è stato un ricordo troppo forte. E una cosa che mi è rimasta di lei è stata la sorpresa che quando siamo ritornati dall'Unione Sovietica e ho trovato un bigliettino piccolino di colore verde, io dico ma guarda chissà di chi è questo l'ho aperto ed era di lei che ci aveva scritto dicendo le cose da dirvi sarebbero tantissime ma penso che dichiarandovi Gesù in mezzo ve li ho dette tutte vostra chiara luce. Come mi sembrava anche se l'era scritto prima un messaggio come dal cielo un mandato e dice guarda teniamo questo legame che è Gesù fra di noi e del legame che è rimasto per sempre con lei. Quasi quasi sarebbe bello concludere qua ma a proposito di canzoni andiamo avanti perché la storia di Gen Rosso è nel 1984 scrivete un inno che resterà nella storia poi degli incontri del Papa con i giovani che resta qui con noi che ho sentito in una chiesa di San Paolo in Brasile mi è venuta la pelle docca lo sento cantare in portoghese quali sono i tuoi ricordi di quella giornata che poi ha dato il via alle giornate mondiali della gioventù? Guarda è stato un momento emozionantissimo e mi ricordo eravamo stati invitati a cantare e noi avevamo appunto composto da non molto tempo la canzone resta qui con noi e se non ricordo male sai perché poi l'età inganna e cancella tanti ricordi ma quello no mi ricordo che eravamo in piazza San Giovanni Laterano noi sul palco che era stato costruito questa marea di giovani là davanti e abbiamo cantato questa canzone che mi ricordo piacque tantissimo a tutti perché anche la partecipazione della gente a cantare il ritornero questo resta qui con noi che risuonava lì e ha fatto tanto 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 effetto e la canzone era piaciuta moltissimo tanto che è rimasta come l'inno della prima giornata mondiale della gioventù che ho ritrovato proprio negli archivi anche che ci hanno dato nel 2000 di tutti gli inni ho visto che la prima il primo inno era proprio quello è rimasto è una canzone che ormai si canta sempre nelle giornate mondiali della gioventù a fine e a fine di tutto in una lingua o in un'altra mi ricordo a Colonia quando il coro la intonò in tedesco salutando il Papa che andava via e anche in tutti gli altri posti perché in tantissime lingue c'è anche un aneddoto particolare legato a questa canzone un ricordo particolare il ricordo è che tutte le cose che hanno poi una storia che dura in genere hanno delle radici molto profonde dolorose anche se vuoi perché noi volevamo fare questa canzone che voleva essere la finale di un nostro musical una storia che cambia ma mi ricordo che abbiamo fatto quella canzone così tante volte e non ci piaceva mai eravamo sempre scontenti sempre scontenti non diceva quello che volevamo dire mi ricordo che eravamo riusciti a trovare il ritornello resta qui con noi ma poi non c'era nient'altro avevamo solo quello e mi ricordo dopo l'ennesima volta che la facevamo delusi sono venuti a trovarmi due del gel rosso dicendo sai abbiamo fatto una musica che ci sembra bella erano bene Dick Tenderly e Marcellino Bautista che avevano fatto questa musica io mi ricordo che quando lo sentì mi ha preso subito e ho detto questa è quella giusta allora dici Dick Tenderly datemela e mi ricordo che sono andato nella mia stanza perché io scrivo i testi delle canzoni in genere ed era un momento magico perché dalla dalla mia scrivania guardavo fuori questo paesaggio toscano bellissimo e vedevo proprio il tramonto che c'erano questi cipressi a fuso che proiettavano l'ombra proprio sulla campagna sul pavimento e non ho fatto altro che descrivere quello che vedevo pensando che anche i discepoli in quel momento con Gesù e vedevano la stessa scena nel loro lì in Palestina allora ho cominciato a scrivere le ombre si distendono scendo ormai la sera era un incanto nel frattempo è entrato nella mia stanza proprio benedict Tenderly mi ha detto ma stai la presenza di Gesù fra noi mi sembra non so come un sasso buttato nell'acqua che spande e allora era il momento in cui stavo scrivendo la seconda strofa e allora ho scritto si allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda che il vento porterà ai confini di ogni cuore e poi è arrivata l'ultima strofa sapevo cosa volevo dire che questa presenza di Gesù doveva raggiungere tutta l'umanità e ho cominciato a scrivere davanti a noi l'umanità lotta soffre spera come una terra che nell'arsura chiede l'acqua e poi e lì non mi veniva il verso mi veniva di dire da Dio dalla providenza da Gesù Cristo da chi dico ma non entrava mai nel verso e mi sono proprio arenato ed ero e dico ma come mai dico chiede l'acqua e dentro il cuore ho sentito come una voce diciamo così che mi diceva da te come sarebbe a dire da me chiede l'acqua da te in quel momento stavo attraversando un momentino non proprio felicissimo no di travaglio anche di come capita sempre nella nostra vita e allora dico da me assolutamente no e allora ho scritto da un cielo senza nuvole chiede l'acqua da un cielo senza nuvole semplicemente e dentro ho sentito incalzare quella stessa voce e dici non è vero perché amare puoi sempre in qualunque maniera tu ti senti asciutto arido e peccatore disgraziato in qualunque cosa però amare puoi non c'è scusa all'amore e allora ho dovuto scrivere ho dovuto scrivere da un cielo senza nuvole e ho scritto ma che sempre le può dare vita e poi ho pensato e dico ma che strano io sono qui non da solo ho fatto una scelta di vivere con altri per Dio e il motivo per cui ci troviamo assieme è che questo Dio sia presente in mezzo a noi e questo è Emmaus volersi bene perché Lui sia fra noi è Lui che dà l'acqua ma dà attraverso il nostro amore scambievole e allora ho scritto con te saremo sorgente d'acqua pura con te fra noi il deserto fiorirà è proprio il miracolo dell'amore scambievole quello che Gesù ha lasciato da questo che riconosceranno amatevi io negli atti dall'amore che avrete e poi è Dio che fa i miracoli ma mi ricordo è stata una lezione di vita così forte che da loro me lo sono portato sempre dietro di colore anche se sei un cielo senza nuvole però ama 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 sempre perché lo puoi fare amatevi perché allora Gesù è fra voi quello è il miracolo io credo che sia questo il segreto di una canzone che tanti anni ancora si canta sentire cosa tutto c'è dietro ma arriviamo al 2013 passando però per il 1989 perché la presenza di Gen Rosso nella GMG è una presenza costante quindi anche nell'89 avete scritto l'inno e invece quest'anno tu hai curato la versione italiana quindi dell'inno della GMG speranza che sorge sì 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 ma è stato bello perché mi piace come ognino prende la coloritura proprio della nazione dove si va no e quando ho sentito l'inno di di Rio de Janeiro cantato in una maniera così scansonata così bella così fresca proprio come sono i brasiliani mi ha molto molto affascinato e dico la verità mi piaceva già così come era in portoghese no invece mi è stato richiesto di provare a fare una versione italiana di quello e l'ho fatto molto volentieri anche con gioia ed è quello che è uscito che adesso viene utilizzato ma per me è stato un onore da una parte anche quello che ho potuto fare ma anche una gioia perché è un inno bello è fresco gioioso sicuramente darà tanti frutti resterà sono contento di averlo potuto fare ma è più una gioia per me averlo potuto scrivere così ma già il fondamento diciamo così il succo del testo è quello fatto in Brasile che è molto bello dove sarà possibile sentirvi ascoltarvi incontrarvi durante la GMG di Rio noi saremo lì già dal 21 di luglio venendo fuori da una lunga tournée che stiamo facendo in Brasile perché in questo momento il Gerozzo è già lì ha fatto spettacoli alla Parisida a San Paolo a Belo Horizonte adesso sta andando verso San Luis nel nord da lì a Fortaleza dove io li raggiungerò e il 21 di luglio saremo proprio a Rio de Janeiro e parteciperemo esternamente diciamo così a un concerto proprio per Chiara Luce che i ragazzi e le ragazze del Brasile faranno il 24 di luglio sì aspetta che vedo sì il 24 luglio ci sarà uno spettacolo su Chiara Luce e il giorno seguente noi faremo un concerto questo concerto che portiamo adesso di dimensione indelebile non saprei esattamente in quale piazza sarà mentre invece il sabato proprio quando c'è la rappresentazione dove si fanno gli atti centrali dove verrà anche il Papa noi rappresenteremo una sintesi di street light che prepareremo con stiamo preparando con 200 giovani di questa facenda e speranza di Freyance ecco già abbiamo fatto una prova con loro proprio negli spettacoli di Guadagnetà e di San Paolo è stato bellissimo e ci ritroveremo con loro e faremo questa rappresentazione e saremo felici anche di rappresentare questa vita di Charles Morts questo ragazzo che ha dato la vita per quest'ideale dell'unità e che speriamo che un giorno di vederlo come chiara luce anche fra i nostri beati i nostri santi perché ha dato la vita per una causa evangelica per la testimonianza di Gesù Valerio cosa diresti ad un giovane che è lontano o in ricerca ancora del Signore guarda innanzitutto la prima cosa che farei è cercare di volargli bene di capire le sue esigenze di capire il travaglio che ha dentro perché se è alla ricerca vuol dire che Dio già sta parlando perché uno che non ricerca non è in ascolto della voce ma se è alla ricerca anche se tante volte queste ricerche vanno a finire che si trovano altri ideali però il fatto che uno si muove è già importante e vuol dire che Dio è già vicino a lui quindi gli vorrei bene gli vorrei bene cercare di fare qualunque cosa per lui per farlo felice ascoltandolo cantando con lui passeggiando con lui ma è il primo atto perché la prima maniera di portare Dio agli altri è di testimoniare questo Dio cioè siccome io credo in Dio amore credo che Gesù è venuto perché ci ha voluti bene e allora la prima cosa che farei è volergli bene testimoniare di amore poi fai vedere anche lui è possibile come tutto è amore nella vita tutto quello che si vede la creazione la presenza dei fratelli è un'espressione di amore di Dio di stesso nel tempo e nello spazio ma che è un amore personale per ognuno di noi Dio ci ama immensamente personalmente e quindi se richiesto gli parlerei di questo di quest'amore di Dio che non chiede niente per sé perché Gesù non ha detto credete in me come ultimo sì l'ha detto ma l'ha detto in una maniera molto speciale perché Gesù aveva sempre davanti l'uomo come comandamento finale ha lasciato un comandamento che è vogliatevi bene proprio come farebbe una mamma con i propri figli vogliatevi bene mi piace un Dio così che anche nel giudizio finale non chiederà chi ha creduto in me chi non ha creduto no dice avevo fame mi ha diventato da mangiare avevo sete è un Dio che pensa sempre agli altri e ritiene fatto a sé quello che si fa agli altri io direi questo lo porterei a cercare di vivere l'amore verso gli altri perché Gesù ha detto a chi mi ama mi manifesterò ma chi mi ama nei fratelli negli altri quindi porterei una persona anche a chi non crede soltanto ad amare 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 gli altri perché a chi ama viene alla luce e capisce il senso dell'amore e quindi anche il senso di tutto quello che lo circonda che è amore portare all'amore e poi si scopre chi è l'amore uno che dà la vita e Gesù ha fatto quello grazie mille Valerio ti ringrazio ringrazio tutti Gen Rosso rappresentati da te ti chiedo quali sono anche i vostri contatti in internet come è possibile raggiungervi guarda e basta andare nel sito che è www.genrosso scritto tutto di seguito genrosso punto com e lì si trovano tutte le informazioni anche di quello che stiamo facendo c'è tanto materiale fotografico anche già di questa tournée in Brasile di quello che faremo in futuro di quello che abbiamo fatto c'è la storia del Gen Rosso gli ultimi progetti che abbiamo fatto con questo Forti senza violenza per educare i giovani alla pace alla non violenza all'amore verso gli altri contro il bullismo ecco e poi ci sono anche testi di canzoni si possono sentire canzoni anche da prati e poi scrivere se volesse scrivere info chiocciola genrosso punto com perfetto va bene questo benissimo grazie se vuole scrivere a quiunque del Gen Rosso basta mettere il nome prima come dire per dire personalmente lode chiocciola genrosso punto com oppure adelson chiocciola genrosso punto com bene e così il nome però se scrive a info chiocciola genrosso punto com e poi noi dirottiamo la persona con cui si vuole parlare grazie per questa bellissima chiacchierata testimonianza io ti auguro quindi buona estate buona GMG anche se poi in Brasile non è proprio estate però non è neanche come il nostro inverno diciamo ma c'è freddo sai l'abbiamo già provato altri turner che siamo stati in questo periodo verso le zone proprio di Guaratinghietà la notte fa freddo bisogna stare attenti grazie mille allora Valeria un abbraccio è davvero grazie 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 a te ciao